Va all'Angelo Lungo a cercare sempre Angelo Creaco, manata di Claudio Sogani, non è fallo secondo il direttore di gara, l'Epadatu mette palla fuori perché c'è Angelo Creaco a terra. E c'è il deal tra Sachet e Creaco. Si allontanano entrambi, viene ammonito Angelo Creaco per uno schiaffo rifilato, schiaffo alla mano, rifilato al numero 3 Sachet richiamato. Grazie a tutti.